Salve a tutti amici per l'orelli, sono sempre io e Skander e prima di partire con l'argomento del giorno, che come avete potuto probabilmente vedere dal titolo parliamo di Blue Eyes, volevo spiegarvi una cosa, allora, io e altre persone del mio team giochiamo anche a un altro gioco di carte, abbiamo già parlato sul canale, si chiama Force of Will, abbiamo deciso di provare ad aprire un canale in quanto ci piace il gioco e vorremmo creare anche dei contenuti su questo gioco e trovate il link del canale che si chiama Force of Money qui sotto in descrizione e per ora abbiamo fatto soltanto un video che però panico, panico per quello che abbiamo sbustato in quel video. Comunque, detto questo, partiamo subito con l'argomento. Allora, perché non montare Blue Eyes? Adesso magari qualcuno di voi dirà eh ma io la penso in maniera diversa e ci sta che la pensiate in maniera diversa, non sto cercando di convincere nessuno, voglio semplicemente dare il mio parere e sentire qua sotto nei commenti invece il vostro. Allora, perché per me montare Blue Eyes è una fregatura tra virgolette e anche una cavolata? Allora, intanto paragoniamo il costo di Blue Eyes che pre-banned, non che sia stato bandito ma prima della banned, si aggirava da 250 ai 300€. Poi, con i Megatin è stato ristampato il sincrono level 9, quello secret, quello che praticamente si tributa e fa entrare un altro sincrono. E quindi probabilmente il prezzo totale del mazzo dovrebbe essere sceso un po'. Tuttavia, io credo che sia veramente troppo alto per le potenzialità del mazzo. Tanto per farvi capire, a meno prezzo potete comprarvi Pick Up a Fire, che è un mazzo validissimo, soprattutto che riceverà dei supporti che permetteranno al mazzo di stare sopra Blue Eyes, adesso lo soffre un po', tuttavia appena uscirà l'alzarango, considerate che Pick Up a Fire può permettersi di tirarvi offion. Quindi, Blue Eyes Player, mettete via il mazzettino, stringete la mano e ciao ciao. Altro mazzo invece che mi piace molto, Mermaid, costa poco, alla minima, costa forse anche più di Blue Eyes alla massima, ma non c'è bisogno di avere un mazzo alla massima per appunto giocarlo. e ha layout, ha delle layout anche alle carte Blue Eyes, una su tutti, Gamelce, il Kaisuke Aqua, che adesso viene splashato in praticamente la metà dei mazzi. E di conseguenza, a parità di prezzo, o comunque avendo un budget di 300€ che, a parere mio, è già troppo per un mazzo, non spenderei mai 300€ per un mazzo, però c'è chi se lo può permettere, beato lui, non andrei di certo a comprarmi Blue Eyes. Mi ricollego un attimo al fatto di Gamelcelle. Allora, Blue Eyes per ora ci esistono due versioni, o almeno le più giocate sono due. La prima versione è basata su Evocare Chaos Max, cioè un... come si chiamano quegli azzurri? Rituali, ok? Un rituale da 4000 attacco 0 death, che praticamente è difficilissimo da buttare giù, fa danno penetrante, se non sbaglio, e non può essere distrutto o bersagliato, cose simili. Allora, tutti i mazzi che si sono sempre basati sul tirare un mostro mega power, uno su tutti, NobelMate, hanno sempre sofferto moltissime carte, una varietà di carte assurde. Iden Blue Eyes, vi faccio un esempio. Allora, evochiamo Chaos Max, si girano la trap che setta tutti i mostri, abbiamo un mostro settato con 0 di death, pronto a morire. Oppure, tiriamo Chaos Max, non lo ticapiamo in quel turno, e partono i Kaiju. Ho visto gente che tirava Chaos Max di primo, fortissimo, fortissimo tirare Chaos Max di primo. L'oppa non avrà nulla probabilmente nella sua mano di 6 carte per tirarsi giù quel mostro, praticamente. E quindi non tirate Chaos Max di primo. Comunque, questa prima versione è veramente facilissima a girarla. Cioè, un Anti-Spell Fragrance fa praticamente saltare il turno, e noi sappiamo cosa vuol dire saltare il turno settando una pietra, o le pietre dei Blue Eyes, o TK sicuro. L'altra versione, invece, quella che preferisco, se devo dire la verità, è quella, insomma, basata di più sui Synchro. Quindi si gioca il Synchro nuovo, quello vecchio da Structure dei Blue Eyes, e roba simile. È una versione che si basa anche, soprattutto, sul parare i propri mostri, grazie a vari effetti, sia quello del vecchio Synchro, sia la nuova carta uscita dal mazzo di Faggard. Certo, questa versione, a parere mio, è sempre parere mio, è migliore, però comunque soffre tutto quello che abbiamo detto prima, Anti-Spell, qualsiasi removal ad area, tra virgolette, qualsiasi cosa che non targetti, e quindi anche i Kaiju, e roba simile. E voi direte, ebbè ma i Kaiju li soffrono tutti i mazzi? Certo, però Blue Eyes di solito tira uno slash due mostri in campo, e fare un Kaiju sull'unico mostro che hai, lasciandoti con un 2002, dà molta probabilità all'oppo di fare un bello TK. Mentre gli altri mazzi spesso hanno 3-4 mostri in campo subito, pendolo uno su tutti, adesso anche Kodmo che parte, tipo Planet Lady Walker, tu devi fare il Kaiju, devi scegliere su quale farlo, e comunque non riesci a TK di solito. E io sto testando Mermail, e sto vedendo appunto che è molto facile battere Blue Eyes, cioè veramente molto semplice. Quindi questo è un altro motivo per cui non lo monterei. Side, allora, come ho detto, ci sono moltissime carte di side contro questo mazzo, addirittura carte, cioè finché è Anti-Spell, dici ok vabbè, è Anti-Spell, magari il becco Twin Twister, top deck Twin Twister, gliela tiro in chain, e magari riesco ad andare avanti, o comunque magari posso sperare che l'oppo non metti i cappi e magari cercare di recuperare la partita al secondo turno, ma ragazzi esiste una carta che è un alleato della giustizia, che dice, sto parlando per quanto riguarda la versione solo sincro, ok, perché so che Chaos Max ha oscurità, comunque dice l'avversario, cioè che non possono essere giocati mostri luce, e quindi non si possono evocare in nessun modo mostri luce. E lì cosa fai? Basta, cioè non puoi fare altro, hai le pietre, puoi settare delle pietre che sono tipo 100-200 o 0 qualcosa, non mi ricordo, e Vanity Fiend, se l'oppo tira un Vanity Fiend, voi non potete più evoccare Special, magari anche solo Vanity Fiend di primo, Vanity Fiend un po' meno, perché comunque nel caso voi riusciate a tirare il sincro, a fare qualcosa, o avete già il mostro in campo, glielo tirate giù, però Vanity Fiend è veramente una spina nel fianco per questo mazzo. Brick, come parli di Brick con Blue Eyes che ha i più peschini del mondo? Certo, perché è appunto questo il problema. Vero, Blue Eyes è un mazzo che riesce a vedere molte carte del deck, e soprattutto riesce a pescare, possono pensare che Gola Drago aggiusta le mani, Baratto, carte della consonanza, e credo ci sia anche un'altra carta che faccia pescare. Comunque, il problema qual è? Più di una volta ho visto che venivano pescate solo queste carte, soprattutto nella versione non rituale, che gioca i Senju e i Manju, quella rituale, quindi comunque riesce a vedere quello che vuole, insomma. Mi è capitato di vedere parti di dove si bricca, e come sappiamo in questo meta, lasciare un turno all'avversario implica quasi sempre di perdere, o comunque di avere uno svantaggio tale da non riuscire a recuperare. Meta. Allora, non venite a dire, e questa volta non è un parere, ma è proprio una cosa assodata, che Blue Eyes è forte perché ha vinto il mondiale, cioè è come se una persona normale, un atleta olimpico di fama internazionale, andassero gli impliati dei disabili, e si vantasse di essere arrivato primo nei 100 metri. Se tutti i mazzi sono segati, giusto? Giusto, ok. Se tutti i mazzi sono segati, l'unico mazzo che non è segato e ha tutto in tre per, secondo voi ha più possibilità o meno possibilità degli altri di vincere? Soprattutto se è un mazzo che ha una carta che contrasta i pendoli, che è il sincrono che impedisce di evocare più di una carta, di un mostro speciale, cioè non si possono evocare mostri speciali tranne uno. Con tanti peschini, quindi capaci di vedere la side subito, questo è invece una cosa che do a favore di Blue Eyes, se parte post primo duello, riesce a vedere i peschini, a vedere il target dei peschini, è quasi sicuro che la side la vede. Se ha queste caratteristiche, è ovvio che stia sopra a dei mazzi che hanno praticamente il main a tutto a 1 o a 2 per e non hanno manco una 3 per. Ma questo non significa che sia forte. Possiamo vedere anche dall'ultimo ICS, l'ICS di Rimi, quello che è stato fatto, che Blue Eyes, no, no, non era in finale di certo. In finale c'era Cosmo, un mazzo valido, e Pendolo, che è un mazzo che può piacere o non piacere, ma comunque un mazzo molto valido. Quindi, ha senso spendere 250 euro, 300 euro per un mazzo che ha tutte queste debolezze? Io vi ricordo che allo stesso prezzo, un po' di metà fa, c'erano dei mazzi molto, anzi, allo stesso prezzo, oddio, forse anche molto meno, perché alla fine Shadow, Neckrods, Clifford, ok, i metti che arrivavano a 200, ma a 250-300 euro non mi sembro. Mazzi del genere non avevano certe debolezze. Cioè, ok, sì, Clifford aveva le antispel, va bene, ma c'è sempre qualcosa che disturba il proprio mazzo, ma per me Blue Eyes soffre veramente troppe cose per il prezzo che ha e per, diciamo, insomma, il valore che noi player gli abbiamo dato, perché secondo me non vale tutti questi soldi. scrivetemi qua sotto voi nei commenti cosa ne pensate, un saluto da Scandare e ci si vedete al prossimo video. Ciao a tutti.